Ciao, sono Valeria Sorli, sono qui per ricordarvi che tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 14.30 va in onda 7 Vinci, programma di giochi e pronostici. Vi ricordo, se volete saperne di più, che potete telefonare 24 ore su 24 al numero 166 140 120. Io e i miei collaboratori vi aspettiamo per darvi suggerimenti utili, mi raccomando, telefonate 166 140 120. Il prossimo fortunato vincitore potresti essere proprio tu. Rio, il gentiluomo. Rio, il fuorilegge. Io non ho cambiato mestiere. Rio, l'amante appassionato. Rio, il pistolero infallibile. Ora vedremo di che stoffa sei fatto. Rio, l'amico tradito. Marlon Brando, regista e interpreta. I due volti della vendetta. Sabato 20.50. Europa 7. Innocenti evasioni. Ancora tu. 12 grandi artisti cantano battisti. Amore mio. Paola Turci. Lit Fibar. Mi basta il tempo di morire. Fra le tue braccia. Marco. Luca Barbarossa. Del bionde trecce. Con Cato. Raff. I tanti altri. Innocenti evasioni. L'unico grande tributo a Lucio Battisti. Warner Phonet presenta Speciale Sanremo 99. Ti riprenderò. I campioni. Ti imponderò. Per sempre con me. I giovani. Allora adesso raccoglio ogni momento. Ti posa più se. I super ospiti. Speciale Sanremo 99. W CD e doppia cassetta. A prezzo speciale. Almeno una notte. Questa notte. Alzate gli occhi al cielo. E fermatevi a sognare. Romantico Chopin. 70 minuti del più romantico Chopin. In un CD da sogno. Rem. La rock band più acclamata. Rem. Up. Un album imperdibile. So happy to show us. But I ain't the love us. Rem. Up. Sempre più in alto. Madonna. Ray of Light. Oltre 500.000 copie vendute. Madonna. Ray of Light. L'album vincitore di quattro Grammy Awards. Madonna. Ray of Light. Un successo senza fine. Scopri i colori dell'infinito. Gli abissi degli oceani. Le profondità dell'amore. Scopri la natura. L'arte perfetta. Scopri la sua voce. Emma Chaplin. Scopri Carmine Neo. Il primo magico album di Emma Chaplin. Buonasera. In prima visione. Buonasera. In prima sera. Giuliani, Giuliani, l'airbag è fondamentale. L'airbag le salva la vita. Se distruggo una macchina di 40 milioni, voglio morire. Hai capito cosa la voglio? Più forte che mai. Perché ti fai? E a me non mi avverti mai. Più divertente che mai. No! Non c'è nessun riferimento. È bravo. Il nuovo Seven Show. Domenica 20.50. Solo su Europa 7. Domenica 20.50. Grazie.